Nei padiglioni del Lake, ma l'attenzione è tutta per loro, sono modelle ma soprattutto influencer con migliaia di fan e richiestissime dai brand. Per esempio Elena Berlato conta 800.000 follower e racconta cosa significa. Per me è un mondo bellissimo perché quando mi si avvicina un fan o comunque qualcuno che mi segue da anni, sento proprio l'emozione, il tremolio nel fare una foto insieme, quindi per me è bellissimo. Si aprono nuove professioni anche. Si, si esatto, dopo da cose, nasce cose insomma.